Video dedicato alla demo 0165 di Black Jewel Reborn per Nintendo In realtà questa demo è già disponibile da un pochino di tempo Volevo aspettare per realizzare il video di una demo più avanzata Ma mi è parso di capire che oramai il gioco è quasi pronto Almeno quello per Mega Drive Quindi siccome a questo punto temo che non realizzino più altre demo Ho deciso di fare il video In descrizione c'è il link per scaricarlo Rispetto alla versione precedente di cui trovate il video L'aggiunta più importante mi sembra quella Che ci si può abbassare e utilizzare la spada contemporaneamente Per il resto mi è sembrata una demo più o meno identica a quella della versione precedente Un H slash a scorrimento orizzontale che promette bene Ovviamente su Mega Drive la grafica ha un aspetto migliore Però mi sembra di buona qualità anche questa per Nintendo E il sonoro mi è piaciuto È possibile scegliere fra due personaggi Anche se nella versione finale mi è parso di capire che ce ne saranno tre Con caratteristiche diverse ma bilanciate Cioè per esempio uno è più veloce L'altro è più forte Eccetera Premendo il tasto select si può utilizzare una super bomba Un super colpo Però io in questo video non l'ho utilizzato Perché volevo farvi vedere che sono bravo Buona visione 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 Buona visione